A noi possono rubarci tutto, i soldi, il cellulare, la libertà ma mai la parola. I camorristi non sono uomini e gente senza anima. A dirlo è Davide Cerullo, 42 anni, cresciuto negli ambienti degradati di Scampia, nelle famigerate vele, cuore del traffico e dello spaccio di droga. Davide Cerullo ha voluto testimoniare la propria scelta grazie all'iniziativa messa in campo dall'associazione Giuliano Futura, intitolata Volti che interrogano, dove ha presentato i libri Ali Bruciate e dal Vangelo secondo Scampia. L'evento prevede anche una mostra fotografica a firma di Cerullo che sarà aperta in biblioteca fino al 19 maggio. Questi ragazzi sono cresciuti senza un senso, sono cresciuti senza una direzione e hanno visto solo il nero e quindi si sono convinti che la loro vita era quella e quindi quello dovevano fare. E poi ce li ritroviamo così, che si fanno la guerra tra di loro, che dichiarano guerre allo Stato. Se per tanto tempo io ho visto solo il nero e non mi è stata data la possibilità di un riscatto, una possibilità di vedere qualcosa di diverso, qualche altro colore, è ovvio che poi io mi armo e perché in quello trovo il mio sentirmi Dio forte e sparo. Come associazione siamo molto sensibili a tematiche importanti come la camorra, sottolinea Raffaele Porcaro, presidente dell'associazione Giuliano Futura. Davide Cerullo è la testimonianza di un passato fatto proprio di pane quotidiano, fatto proprio di camorra ed è qui oggi per far capire soprattutto alle generazioni più debole, ai bambini e ai giovani che spesso si fanno ammagliare dal potere, dai soldi facili. All'evento presenti il vice sindaco pianese e l'assessore all'istituzione del comune di Giuliano, Miriam Marino. Ascoltiamoli. Noi come amministrazione siamo da tempo impegnati su valori della legalità, nel promuovere praticamente tutte le azioni che in qualche modo possono confortare questo tipo di problematica, possono risolvere problemi legati al fatto che i giovani in qualche modo si sentano attratti, dalla camorra, da tutto quello che in qualche modo la circonda. Questo contatto con queste persone è molto importante perché li può aiutare sin da piccoli a capire e soprattutto a non sbagliare loro stessi, educando i bambini si educano i grandi e quindi aiutiamo le famiglie a crescere nella legalità e a rispettare le regole.